Meno uno, manca un giorno, a Garbatella 100. Profumo di catrame. Quando eravamo piccole e avevamo la tosse convulsa, le mamme cercavano i ragazzini per portarli. Si prendeva il tram, ma non l'autobus come adesso. Papa, quando ci vediamo? Quando ci vediamo? Domani a mezzogiorno a Piazza Brin. Piazza Brin? Si. Ciao. Perché bisognava sentire l'odore del catrame che faceva bene la tosse convulsa. Piazza Brin. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.